Uno dei luoghi più amati in terra ambrosiana è il santuario di Sabbioncello, nel vasto territorio di Merata e quindi proprio nel cuore dell'Abrianza. Si tratta della chiesa di Santa Maria Nascente, che ancora oggi è frequentata da fedeli, ma anche dagli amanti proprio dell'arte, per quei piccoli capolavori che conserva e ancora oggi presenta. Infatti appena entrati si è veramente colpiti da queste pareti che sono colme, piene proprio dal pavimento fino alla volta di affreschi, di dipinti, per lo più molto semplici, proprio di gusto naif, si tratta di ex voto, si tratta proprio di immagini per grazia ricevuta, realizzati per lo più proprio fra il Cinquecento e il Seicento. Oggi questa chiesa, questo luogo è proprio curato dai franciscani, dai frati minori, anzi è proprio sede dell'infermeria provinciale dei frati minori, quindi frati anziani o frati che hanno bisogno di cura. Ma la storia proprio, lo dicevamo, è antichissima di questo luogo, tanto da dire che probabilmente quassù in questa collina una chiesa, un luogo sacro c'è sempre stato. Ma fino al Cinquecento era abitato, frequentato dai remiti, ci sono anche delle storie veramente bellissime. Nel Cinquecento arrivano appunto i francescani e quindi viene anche ricostruita la chiesa più o meno proprio con le forme attuali, quindi di gusto, diciamo così, tra il tardo gotico e il rinascimentale. Il cambiamento principale si è avuto attorno al 1580 quando è stato cambiato l'orientamento della chiesa, quindi l'ingresso oggi si trova a Oriente. Interessante che qui fu chiamata proprio una comunità particolare di francescani, quelli che seguivano il carisma di Fra Amadeo Mendez da Silva, personaggio veramente interessante della Milano del Quattrocento, che divenne consigliere, guida spirituale dei signori di Milano dell'epoca e che ebbe grande fortuna, tanto appunto da fondare conventi molto importanti, Santa Maria della Pace a Milano, Bressanoro nel Cremonese e questo proprio in Brianza. Una spiritualità davvero molto mariana e come dicevamo l'immagine oggi veramente che entra negli occhi, nel cuore sono tutte queste madonne insieme ai santi patroni, insieme a San Francesco, a Sant'Antonio Abate, a San Rocco, ma proprio l'immagine di Maria col bambin Gesù e in particolar modo la Madonna Maria che allatta suo figlio, le madonne del latte, così tenere, così amate che ancora oggi possiamo proprio vedere a Sabbioncello, un tempio, un luogo della madre di Dio, della maternità umana e divina.